Ieri sera, nel corso della diretta del grande fratello VIP, durante la parentesi dedicata a Miriana Trevisan e Biagio Danelli, il web si è accorto di un dettaglio. Nicola Pissu è sparito dallo studio, per quale motivo? Secondo una segnalazione del vicolo delle news, ci sarebbe stato un risvolto shock sulla sparizione di Nicola Pissu da prendere con le pinze. Ciao, sono a Cinecittà in studio del GF VIP. Vi volevo far sapere che Nicola Pissu ha lasciato lo studio durante la pubblicità, prima della sorpresa per Patrizia Pellegrino. Praticamente ho visto durante la pubblicità un autore che gli ha gridato faccia a faccia a Nicola, che lo obbligava a intervenire nella clip di Biagio e Miriana che avrebbero fatto vedere dopo la sorpresa di Patrizia. Alla fine Nicola si è alzato dalla sedia e se ne è andato via. E mentre se ne andava via, Signorini gli ha detto sei uno sfigato di me. Personalmente mi sembra impossibile che Signorini abbia urlato quelle parole a Nicola Pissu. E infatti ad intervenire sulla questione un utente di Twitter, che partecipa molto spesso alle registrazioni di Uomini e Donne e Grande Fratello VIP, e di cui molti colleghi rubacchiano le sue anticipazioni senza citarlo e spacciandole per loro esclusive. Il buon Edoardo scrive Conoscendo le dinamiche dello studio, mi sembra molto difficile che Signorini abbia detto una cosa del genere a Nicola, soprattutto perché lui in pubblicità sparisce, non resta sul palco. Fidatevi solo delle mie anticipazioni.